Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre grazie al playstation plus mi sto diciamo dedicando a recuperare un bel po' di titoli alcuni che avrei voluto comprare da tempo ma poi anche per problemi economici ho dovuto un po' stringere la cinghia quindi mi sono concentrato solo sui titoli cui ero pienamente sicuro altri invece che non avrei mai pensato di giocare e neanche appunto di comprare però avendoceli gratuitamente perché non dargli un'occhiata questo è pronto il caso di telling lees ovvero raccontami bugie che praticamente è uno di quei tanti giochi che negli ultimi anni sono salzati fuori in full mv ovvero full motion video che come succedeva per alcuni titoli tipo night trap veramente a fine degli anni 90 proponevano dei spezzoni di filmati che andavano a collegare poi appunto una storia bivi quindi sul concept dei giochi di quantic dream e supermassive game ma fatti con attori veri quindi appunto iniziamo l'avventura in questa schermata iniziale veramente orrida perché capisco che voglia essere immersivo magari però davvero inizia opzioni senza neanche il titolo del gioco un copyright qualcosa teoricamente questi giochi per chi ha dovrebbero essere un must però ne avevo provato un paio qualche anno fa ed ero rimasto davvero bruciato per il fatto che la cosa peggiore è che effettivamente questi titoli solitamente si è carina poi però la messa in pratica no quindi ci sono alcuni titoli che risultano davvero molto godibili e altri invece no vediamo la guida dei comandi massimizzare spostarsi tra le voci spostare il segnalibro fare click quindi ad esempio questo mi dà un pochettino più la parvenza di gioco perché effettivamente non mi ricordo neanche più le regole pensa te non ci potevano spostare lì e boh non ce n'ho già voglia quindi usciamo io posso guardargli il computer questi segnalibri non ce n'ho ok cronologia non ce n'è cerca amore e insomma questo dovrebbe far sì che il gioco appunto è una sorta di se quella di filmati che si possono visionare la cosa è proprio questa il riflesso dà il senso diciamo appunto che stai guardando un filmato sul computer non il filmato grezzo che parte quando scegli qualcosa quindi in questo caso appunto la messa in scena è molto più carina di altri giochi essendo completamente in inglese il doppiaggio è curato per quello che ogni tanto non riesce ad enfatizzare per il fatto appunto che non lo so poi adesso all'inizio quindi magari devi anche capire perché stai facendo cosa chi come quando il fatto che noi non possiamo scegliere almeno opzioni di dialogo già questo ti risponde così non è che mi gasa tantissimo quindi già qua sono passato a guardare un altro filmato perché ho cercato la parola ok quindi già ecco è strano Isabella quindi io poi posso cercare attraverso appunto il browser i filmati collegati al alla parola in codice per così dire ecco già questo mi oscuro un po' il funzionamento non mi fa proprio entrare nel mood perché non essendoci le mie risposte è come se io non sapessi cosa gli sto dicendo e poi perché sto qua col maglione che sembra dormire per terra lui ti risponde però effettivamente non non mi galvanizza il fatto che non c'è un vero e proprio dialogo tra di noi o con la persona con cui stava dialogando e noi stiamo guardando filmato per il semplice fatto che qual era la domanda perché lui ha risposto così perché fa quelle facce da tonno e lei cosa gli ha detto e sta prendendo una piega insolita fa tanto chat roulette sta cosa se si sta togliendo le mutande ecco cioè eeeh sì però perché no cioè davvero ma che succede vedere la solo una parte unilaterale appunto del filmato della conversazione non mi dice niente non mi riesce a gasare e teoricamente tu dovresti visionare decine e decine di filmati collegandoli tra di loro poi appunto cercando le parole chiave i nomi per cercare di capire chi è Isabella quindi guardi l'altro filmato con Isabella e cerchi di capire se quel filmato è l'altra parte diciamo del del discorso che c'era all'inizio però boh mi sembra un po' complesso e non mi fa capire nel carattere dei personaggi né quello che sta succedendo mentre molte altre avventure narrative come adesso ultimamente avevo provato anche i Den Agenda oltre che appunto i The Dark Picture Anthology e The Quarry quelli almeno ti davano il senso di cinematico proprio perché erano come dei film interattivi con un'impostazione horror o poliziesca thriller qua invece boh cioè vedere un minuto di sto qua che fa gli occhi senza però sapere qual è la domanda cosa sta vedendo lui poi magari lo vedi in un altro filmato da però è questo perché mi dovrebbe far venire voglia di scoprirlo se fosse appunto un film sarebbe il film più noioso del mondo direi cioè l'incipit è carino ma la chiamiamola realizzazione è un po' troppo blanda sembra uno di quegli esperimenti quei film amatoriali come prendevano per il culo una volta il film svedese sottotitolato in ucraino per far impazzire gli intellettuali tipo i team che faceva la truffa sberla e diventava famosissimo perché in tanta la gente non importa più gliela fai complicata più si galvanizzano e purtroppo è anche una cosa che succede adesso in alcuni film indipendenti che un tempo cercavano appunto di dire qualcosa adesso meno ti riescono a dire o anche grandi registi tipo Tenet che effettivamente meno ti dice e più il pubblico si esalta e poi questo cosa dovrebbe farmi capire e quindi cerchiamo Isabella Isabella ci parla di questo 34 secondi e dovrei capire che è la parte di filmato che lui ha visto all'inizio e appunto e l'ipnotizio si fa parte dell'altra parte di discorso però appunto sembra una cosa di uno che ha registrato chat roulette a caso perché a un certo punto quella che sta parlando così penso che sia in realtà la fidanzata che fa una sorta di gioco di ruolo e poi gli arriva tipo la figlia però appunto beh questi che sono teoricamente attori veri mi riescono a dare meno emozioni dei personaggi digitali ricreati da attori veri perché appunto anche Elia Noir o comunque le varie cinematiche della storia tipo di un GTA le riesco le trovo molto più reali più interessanti anche diciamo le parti filmate di no le parti filmate di Uncharted e così via sono molto più vere di quello che succede appunto in questi film interattivi boh sembra ogni tanto che alcuni di questi giochi siano come dire dei telefilm non riusciti riadattati in un videogioco quindi lei voleva fare la porcona con il marito online e no peccato che questo può essere anche abbastanza realistico però non riesco a capire lo scopo del del gioco perché questo è un videogioco fosse un film sarebbe noioso vedersi gente che si videochatta un po' a caso però effettivamente adesso succede qualcosa di particolare perché verso gli ultimi secondi del filmato precedente faceva una faccia davvero strana però appunto chi è la ragazza che sta guardando questi filmati il nostro chiamiamolo alter ego perché lo sta facendo sono domande che invece mi pongo già dall'inizio del gioco quindi boh non è stanle parable che dovrebbe appunto rivelarmi qualcosa solo verso la fine qua si fanno le faccine come con l'altro adesso arriva tipo un rapitore mascherato dietro perché se no se non c'è un colpo di scena rischio davvero di addormentarmi sono un po' troppo critico probabilmente però diciamo che dieci minuti di gioco non ho trovato nessuno stimolo per andare avanti qualsiasi altra avventura narrativa nei primi minuti o cerca di contestualizzare l'ambientazione i personaggi o farti capire cosa sta succedendo e perché qua invece no io non ho capito niente del perché sta succedendo ciò devo farmi tutto il gioco per scoprirlo e queste poi si addormentano con il computer con la webcam accesa a nastro e non è che la salutano e chiudono come le persone normali e anche quella tipologia appunto di chiamiamolo falso documentario barra film con la handycam che si non è successo nulla di che e quindi ricerca amore quello l'ho visto perché poi essendoci anche le date dovrei capire in un certo senso quali guardare in che ordine guardarli il gioco tra l'altro ha un orario parte da mezzanotte e va in avanti c'è anche la durata della batteria che in realtà non ha molto senso e dovrebbe essere collegato con la presa e man mano che guardiamo i filmati dovrebbero passare anche i minuti unica cosa abbiamo visto un filmato da cinque minuti e un altro quasi da quattro e sono passati solo tre minuti non è molto realistico adesso vediamo questo da due minuti questa vita vera vissuta che effettivamente dopo che hai detto una cosa del genere hai ammazzato ecco e dopo che dici questo davvero c'è queste frasi porcone un po' come quei team movie che vogliono essere adulti e parlano di sesso e di cose ecco buonanotte buonanotte anche a te grazie non ha molto senso un dialogo del genere dai ed effettivamente boh cosa mi dovrebbe voglio vedere cerca cacca ah qua abbiamo il filmato di risposta no chiuso non voglio chiudere le cose che odio e adesso sono passati tre minuti guardando un minuto e mezzo vabbè è strano però questo dell'ora lo so perché semplicemente ci sono dei trofei che riguardano il fatto di guardare i filmati fino all'una alle due alle tre di notte vediamo Itachi ti rimanda a questo filmato vediamo no solo questo quindi non è veramente internet perché sennò avrai dieci milioni di risultati la batteria si sta caricando in realtà perché è arrivato l'80% e non sono passati i minuti allora l'abbiamo visto però appunto sì è intrigante cercare di scoprire qualcosa di questi personaggi guardando estratti dei loro delle loro video chat che non so perché siano registrate però non c'è le devi cercare praticamente in una sorta di database perché perché non c'è il registro delle chat e non le guardi in ordine è strano cioè non essendoci un incipit del perché io stia facendo questo del cosa sto cercando sono una spia che cerca fine quindi questo buonanotte ok perché qua te lo fa ti cerca in realtà la parola e quindi me lo fa partire da da quegli ultimi secondi ok ma io ad esempio adesso lo mando tutti indietro perché vorrei sapere ad esempio tu chi cavolo sei perché finché magari spi un uomo per così dire che parla con la sua famiglia perché stai cercando delle informazioni ok poi però ti trovi una chat con una persona che teoricamente non hai mai visto per adesso e cosa mi va a rappresentare devo anche mandarla indietro così a mano quindi non so c'è questo poi la realizzazione in sé e alcuni dettagli come appunto il riflesso dello schermo per dare l'idea che tu sia il personaggio che sta guardando il computer e i filmati è interessante il fatto però ad esempio che si colleghino con le parole senza un vero senso perché io non sto guardando il suo harddisk e allora frugando nell'harddisk tipo in Doki Doki letterature che a un certo punto passi dall'avventura grafica alla chiamiamola realtà del desktop con le sottocartelle i file da cercare qua invece no semplicemente cerco dei filmati con un motore di ricerca davvero stronzo perché non ha senso perché appunto noi non sentiamo l'audio dell'altro quindi poi devo capire questa con chi sta parlando sempre con il tipo di prima con un altro perché ci sono i filmati di diverse persone sullo stesso computer perché appunto fosse il computer chiamiamolo del marito che è il primo filmato che c'è avrebbe un senso che ci sono i suoi filmati ma non che posso trovare quelli della moglie che dovrebbero essere su un altro computer non ha senso e boh cioè questo in un'avventura narrativa deve esserci soprattutto la voglia di scoprire cosa succede di dove ti porta la storia ci sono alcuni giochi tipo quelli appunto dei supermassive game che ti conducono in una storia interattiva però la storia va avanti quasi da solo in certi momenti tu devi interagire ci sono i giochi come Le Noir o quelli appunto della Telltale o della Quantic Dream che comunque hanno un gameplay forte in cui sei tu che devi fare determinate cose se no il gioco non va minimamente avanti devi quindi sì interagire con i personaggi parlare però anche muoverti risolvere alcuni enigmi ambientali fare effettivamente delle scelte morali questo è un esperimento è più che un videogioco come ci sono anche quei giochi come avevo fatto vedere mi sembra quello del Dottor V basati sui filmati che trovi su un cellulare però hanno un pochettino più di gameplay perché appunto vai a rosistare nelle cartelle devi cercare degli elementi specifici magari in qualche documento che hai scaricato o in un file audio e così via cioè vedermi qua dieci secondi di chiamiamolo silenzio perché l'altra persona che sta parlando ma io non so chi è devo cercare di capire come collegarlo a un altro filmato perché devo trovare il filmato attraverso appunto vediamo quindi potrebbe essere questo ma no perché la data è completamente diversa quindi non può essere la risposta a quest'altro file però boh cioè io io probabilmente sono solo io che lo sto giocando appunto senza troppe aspettative senza volerlo veramente giocare perché appunto lo provo solo perché l'ho scaricato gratuitamente con il playstation plus premium ma non riesco ad avere la voglia di andare avanti cioè non mi sta prendendo per niente ho provato observation e quello mi ha galvanizzato mi ha davvero intrigato con quel tipo di gameplay diverso inaspettato qua è comunque diverso inaspettato da quello che credevo perché comunque c'è un minimo di interazione e devo anche cercare di capire come collegare i filmati però è tutto molto scuro mi sembra di andare a testoni mi sembra di andare appunto a caso non dovrei cercare delle parole corrispondenti tra i due dialoghi così da avere l'altra parte però effettivamente non lo so non mi gasa adesso non riesco a capirne le dinamiche non riesco quindi a entrare nel mood del gioco perché non capisco neanche il perché lo sto facendo fossi un hacker appunto come dicevo che cerca delle informazioni rovistando nella vita della gente avrebbe più senso così forse lo sono ma non me lo fa capire cioè Beholder per dire che spiavi facevi il proprietario del condominio di questo regime autoritario dovevi scoprire appunto la vita dei tuoi inquilini e magari denunciarli alle autorità era alienante era intrigante ti faceva venire voglia di scoprire i segreti di questi personaggi io qua non riesco neanche a capire tra un po' i noi perché non ti vengono appunto detti o non si capisce neanche Isabella è il vero nome della tipa o è un nome da gioco di ruolo stessa cosa appunto questa ti dice ti parla di cose ma non riesco a capire su quale diciamo parola dovrei andare a cercare per capire qualcosa su cosa sto cercando visto che la prima parola che diciamo sono andata a cercare in automatico è amore ma perché visto che la tipa che si è intravista non sembra nessuna di quelle che ho visto adesso perché lo sta facendo e appunto come mai ha sull'hard disk i filmati di diverse persone registrate in maniera unilaterale tra l'altro e non ha senso perché appunto non è una conversazione e cerchiamo amore questo non l'ho visto però appunto anche le date non riesco a capire come come si colleghino tra di loro per il fatto che diciamo il nome di registrazione è molto distaccato il nome appunto dei la data scusate dei file e l'ora è diversa perché questo che dovrebbe essere stato fatto il 15 agosto è la risposta cioè è l'interazione con quello fatto il 22 agosto perché cioè come cioè li collego perché si li collego cioè no scusate questo è l'altro questo è un altro ancora è vero scusate perché appunto mi confondo quindi il 15 agosto la cronologia perché appunto abbiamo visto Isabella ok Isabella è il 15 agosto però è un'ora diversa ecco questa avevo notato già prima e allora appunto adesso mi stavo confondendo con l'altro filmato perché hanno un'ora diversa perché sembra che lei gli parli alle 8 di sera e lui invece gli risponde alle 11 eppure le conversazioni sono sincronizzate quindi non è un video messaggio a cui io mando una video risposta tre ore dopo non riesco davvero a capire è questo mi mi lascio abbasito perché il collegamento logico mi sfugge come dicevo c'erano anche quei giochi qui frugavi appunto nel cellulare oppure magari negli hard disk e dovevi collegare gli indizi però secondo me aveva una storia migliore di questo ed erano anche gli indie soprattutto da giocare su mobile che ti faceva appunto interagire o comunque immedesimare meglio con un fatto appunto che avevi la schermata da cellulare e lo guardavi su un cellulare quindi ti dava l'idea di avere il cellulare di quest'altra persona di cercare di scoprire chi era e cosa gli era successo qua invece non riesco a capire il perché di tutto ciò le discussioni che stanno facendo sono veramente basilari sono cose davvero da chat privata da da maniaco che spia vediamo alex quindi no fa parte di questi filmati no no cioè proprio mi viene da dire no perché non riesco a collegare i passaggi dei personaggi poi il fatto che alcuni partano dal dal minuto in cui c'è quella parola è molto ingannevole perché qua mi sono già perso due minuti di chiamiamola videochiamata quindi sì c'è quella parola amore a due minuti su tre minuti e quaranta ma io vorrei sapere come incomincia questo dialogo e quindi boh me lo devo anche mandare indietra a mano è una strana versione del google search quando fai appunto la ricerca nei file con una parola generica che ti saltano fuori cose strane perché ti trova documenti che non c'entrano niente ma che dentro hanno quella parola ok però per una chat così è davvero impossibile come anche quando cerchi una cosa su whatsapp o su telegram che già su una chat con un'unica persona a volte trovi decine e decine di risultati figuriamoci qua in un discorso cercare di capire come collegarli boh che cosa non riesco a immedesimarmi perché non riesco neanche a capire di cosa stiano parlando cioè è il tipo che sta cercando di rimorchiare anche questa facendo le corna alla moglie perché chi come dove se fosse un'avventura investigativa come lo era anche tipo heavy rain che effettivamente ti portava a cercare degli indizi avere dei personaggi che all'inizio non interagivano tra di loro e dovevi capire appunto che cavolo di senso avevano poi cominciavano a incontrarsi e allora capivi che quello che avevi fatto da una parte aveva un senso e ciò davvero mi era piaciuto tantissimo provo che heavy rain sia uno dei giochi se non il gioco migliore di quantic dream e effettivamente mi aveva preso tantissimo qua invece no cioè già questo l'incipit inesistente il perché e il come funziona anche questo sistema di ricerca è totalmente un mistero che dovresti capire solo con una guida l'unica cosa che trovo piacevole è che effettivamente la recitazione degli attori non è male è abbastanza naturale hanno delle espressioni carine comunque che fanno capire bene anche il loro stato d'animo però effettivamente avere semplicemente una parte del dialogo e non tutto solo diciamo un lato della conversazione è stranissimo è come se tu guardi una chat con un tuo amico e trovi solo le tue risposte e e che senso ha no non è che poi c'è un altro file con il nome di quello con cui chattavi e lì trovi solo le sue risposte e devi incrociarle non ha senso e questa cosa del non avere senso a questo sistema mi uccide perché appunto non mi riesce a fare immedesimare nell'avventura non riesce a farmi appunto integrare con quello che sto facendo perché mi sembra una cavolata mi sembra una forzatura per rendere complessa una cosa che invece sarebbe semplicissima se io guardassi la registrazione del filmato con botta e risposta effettivamente sì sarebbe forse meno realistico però effettivamente anche se non vedo magari la mia faccia perché sto registrando lo schermo dovrei sentire la mia voce che le parlo e dico qualcosa e quindi lei mi risponde di conseguenza così non c'è veramente immedesimazione perché succedono delle cose non capisco il perché adesso cerchiamo cerchiamo il nuovo Colombo e vediamo questa era quella che diceva Colombo ok e quindi cosa c'entra e vabbè diciamo che puntano un po' tanto per così dire sull'EC se fosse un gioco giapponese appunto e invece boh però non è appunto l'altra parte dell'altro filmato e quindi lei dice Cristoforo Colombo e Colombo è diventa la password diciamo il nome per i loro incontri segreti ma effettivamente non riesco non riesco questo questo lo voglio vedere questo è ingannevole quindi sicuramente non sarà quello ma questo torniamo torniamo indietro un altro personaggio cioè mi sembra che tutto sia un po' troppo casual buttato a caso e se c'è un filo logico non riesco a comprenderlo ripeto probabilmente anche l'ha fatto che visto che lo sto semplicemente provando perché è gratuita e quindi non ho un vero interesse nel giocarci non sono diciamo stimolato anche a comprenderlo al 100% ne sto cercando di fare anche diciamo una recensione di dire le mie prime impressioni e quindi non sono concentrato al 100% però proprio non riesce a casarmi perché questa cosa appunto che non ci siano le risposte mi uccide è un dettaglio stupido però appunto mi uccide perché non riesco bene a collegare i file e posso cercare i file solo attraverso le parole e non le date quindi è allucinante perché semplicemente visto che questo file si svolge in un determinato giorno non posso cercare i file di quello stesso giorno e tra l'altro come abbiamo visto prima due file che sono palesemente botta e risposta quindi sono la stessa conversazione sono marcati con due ore completamente diverse potrebbe essere per il fatto che visto che dà il senso che sia un gioco ambientato in America o comunque appunto magari la moglie è in un altro paese all'estero e così via o lui all'estero per lavoro chissà cosa e allora possono avere due orari diversi però appunto questo rende ancora la cosa più complessa è davvero poca poco interessante perché ci buttano un po' anche adesso di cose di cultura pop a casa e questo filmato non c'entra niente con gli altri che sembravano una sorta di rimorchio tra due persone e qua invece ok sì si preparano per Halloween andiamo a vedere Halloween e già di nuovo adesso lo guardiamo poi ci sono anche questi però non c'è un filmato corrispondente dello stesso giorno cioè questo che ha un filmato del giorno prima e dubito che stia parlando con la bambina c'è il filmato che ha un'anteprima da porcellona e quindi non credo che questa sia l'altra parte dell'altra conversazione non ha senso questa è anche abbastanza squallida come cosa non riesce a farmi medesimare per niente halloween è il mio tempo preferito perché boh mi sembra di andare a casa appunto cercando delle parole che possano essere chiave ma in realtà poi io posso ricercare l'o oppure a voglio vedere e cercando a trovo solo cinque risultati non ha senso perché non potete dire che una parola così generica che dovrebbe comunque comparire in tantissimi dialoghi ci sia solamente in cinque file risultati limitati a cinque scusate 131 di cui non ho il file da cui l'ho estratta quindi come funziona ecco non puoi tornare indietro ma devo di nuovo cercare perché davvero non ha senso perché no perché proprio no e poi anche la qualità ad esempio qua del fondale è nettamente inferiore non so se vuole esserlo davvero per dare il senso che abbia la webcam scrausa appunto da da tizia che fa queste cose online e quindi non è che gli serva più di tanto far vedere il retro però effettivamente è brutto a livello tecnico ci sono degli alti e bassi chiamiamola nella fotografia che è anche uno dei problemi degli FMV che in alcune scene sono davvero troppo low budget e diciamo green screen a manetta tra l'altro sembra davvero una strappona allucinante boh cioè dopo che mi guardo tipo tre minuti di sto filmato che non è neanche interessante però ecco si fammi scegliere David quindi è David lui si ciao sono David te lo dicevo all'inizio quindi David il 14 almeno questo grazie al signore corrisponde l'ora però no scusate non è il filmato che stavo vedendo prima perché ci sono 60 risultati e me li limita a 5 quindi questi dovrebbero essere botta e risposta a 2 minuti e 26 su 4 minuti però parte il filmato da un certo punto quindi quindi non lo sto guardando neanche tutto io ci sto impazzendo cioè non mi riesce a entrare diciamo a farmi medesimare in questa avventura perché non capisco come funziona cioè un punto e clicca un'avventura narrativa una visual novel le capisco senza problemi sono semplici lineari anche se hanno magari bivi scelte morali e mi fanno diciamo sentire di avere un minimo il controllo delle delle situazioni anche se poi in realtà non non è così vero qui invece boh non capisco perché succedano le cose poi quando ci sono appunto lunghi dialoghi di un personaggio di che tu non stai sentendo e quello che vedi è questo cioè zero mi dà zero interesse perché è noioso guardi una persona che per dieci secondi fa delle faccine dei sorrisini dovresti cercare di capire appunto se poi l'altra parte del filmato che si ricollega fa addirittura una faccia un po' schifata del tipo c'è la melanzana cos'è una sorpresa non me l'aspettavo la miglior puntata di la signora in giallo di sempre e quindi vediamo se questo appunto quando dice David e allora si che stai facendo probabilmente quelle quelle facce che non ha senso un discorso del genere e quindi boh cioè dovrei scoprire l'elettroscena di certe persone guardando dei filmati cercando di capire come collegarli però davvero a parte averci questa continua diciamo interazione verso il sesso verso appunto il cercare di fare qualcosa di spinto tra i personaggi che poi vengono fermati per così dire è un minimo di erotismo ok c'è scene come questa già più di quella di prima però effettivamente è come quelle avventure testuali che adesso stanno uscendo abbastanza frequentemente sia su steam che su playstation network che non hanno neanche bivi non hanno niente di interessante se no una grafica abbastanza spinta e il fatto che alcuni ti fanno fare un botto di trofei in facilità però non li considero giochi qua teoricamente c'è un gameplay ma un gameplay completamente oscuro di trofei di trofei di trofei di trofei di trofei Grazie a tutti.